Amici, buonasera a tutti quanti, sono di nuovo io Francesco Portochese e il tema è sempre sicurezza. Sappiamo quello che è successo della bomba carta a Vigo Casaconte, sappiamo quello che è successo l'altro ieri delle motociclette con delle persone ignote che scappavano e la polizia ne rincorreva, sappiamo anche precedentemente altre bombe carte messe, vi ricordate a largo arso riguardo quella palestra, sappiamo anche del morto che è successo a Portici, a Via Università, tutto questo dà ragione a noi che da circa 11-12 anni stiamo dicendo che c'è bisogno di rafforzare la pattuglia del commissariato di Portici e Colano, una sola pattuglia non basta per Portici, lo ha detto anche in passato il sindaco, l'ha scritto anche del sindaco, quindi non facciamo cose strumentali per attaccare l'amministrazione e il sindaco perché non c'entrano nulla. Il nostro problema è uno solo, dobbiamo lottare tutti quanti insieme, tutti i cittadini affinché dal prefetto e al questore si dica adesso basta, bisogna aumentare le unità di forze dell'ordine, quindi più pattuglie sul territorio porticese perché senza pattuglie puoi tenere anche mille telecamere, duemila telecamere non si fa niente, quindi lottiamo, noi saremo pronti a uscire fuori anche con i cansebo a lottare per questo perché noi ci vogliamo far sentire dal popolo, dai cittadini di Portici. Portici non è la Portici della Camorra, la Portici della bella città, dei cittadini per bene e la delinquenza la dobbiamo cacciare, se viene da fuori, da dove viene viene, da San Giovanni, da Barra, dove può venire, noi la dobbiamo cacciare perché noi vogliamo la Portici pulita, la Portici ordinata, la Portici della più bella città del mondo. Quindi caro prefetto, caro questore, mandateci le unità e rafforziamo assolutamente il comando di Polizia di Stato, il commissariato di Polizia di Stato, una pattuglia non basta. Vi raccomando cittadini, non arrendiamoci e lottiamo. Grazie a tutti voi.